È la prima volta di MSC a Venezia con la MSC Divina, la nostra nuova ammiraglia. In realtà siamo a Venezia dal 2001 con una bella storia in termini di successi e di numeri perché scaliamo appunto costantemente Venezia con la Rhapsody nel lontano 2001 trasportando in un anno 18.000 ospiti. Oggi, questo 2012, scaliamo Venezia con ben 5 navi e movimentando 550.000 ospiti. La particolarità in assoluto è che è una nave dedicata alla nostra madirina Sofia Loren e a una gabbina di questa nave dedicata alla Sofia con un arredamento scelto e studiato appositamente per lei. A tutti quanti, grazie per essere qui. Ciccin, salute!